Rilaccio alle parole del nostro sindaco e del mio collega Fabio. Come assessore all'ambiente non so che dire, cioè nel senso che dire solamente aiutiamo a rispettare l'ambiente, aiutiamo a rispettare questo parco meraviglioso. Mi rivolgo a voi bambini perché questo parco è per voi, è per voi nella memoria di Tonino Mazzini, è per voi perché è un ambiente fatto per voi a misura di bambino e quindi insieme ragazzi dobbiamo aiutare a rispettare l'ambiente. Solo con voi riusciremo a dare un segno agli adulti, un segno per il domani. Infatti proprio in questo anno stiamo dando i primi passi, stiamo tracciando i primi passi che ci porteranno alla raccolta differenziata e se vi ricordate siamo partiti proprio da voi perché con voi abbiamo ideato il logo, quindi con voi è un altro segno, questo il parco è per voi. Il prossimo passo è la scuola, la scuola per voi. Quindi ragazzi siete importanti, state nel cuore dell'amministrazione, state nel cuore di tutti voi. Quindi insieme a noi grandi riusciremo a dare un bel segno per Mentana. Grazie. Adesso andiamo alla lapide.